benvenuti e bentornati alla rubrica televisiva lavorare al centro la rubrica televisiva di centro consorzi e case artigiani belluno un saluto a voi e un augurio di buon anno da parte di stefano balbinot vice segretario di case artigiani belluno responsabile dello sviluppo dell'organizzazione in centro consorzi la puntata di oggi sarà molto interessante perché tratteremo di alcuni argomenti che il centro consorzi offre e che per molti di voi telespettatori non sono ancora conosciuti in primis diamo la parola a dei nostri clienti e dei nostri soci che hanno contribuito alla realizzazione di questo programma questa è la farina media colazzuol io sono giorgio colazzuol sono la quarta generazione di questa azienda l'azienda attualmente ha più di 60 anni opera nel nel settore del legno attualmente con la realizzazione di serramenti in legno in passato periodo abbiamo fatto dell'arredamento rivestimenti esterni su case di montagna attualmente ci occupiamo in sostanza di serramenti interni e serramenti esterni in legno negli anni abbiamo affinato tecniche abbiamo affinato materiali abbiamo cambiato gruppi frese per restare sempre all'avanguardia e cercare di fare un prodotto che attualmente il mercato richiede in sostanza probabilmente adesso è un po tardi pensare di fare una filiera del legno sarebbe stato opportuno probabilmente anni indietro adesso le nostre nazioni confinanti probabilmente sono più organizzate di noi principalmente lavoro in provincia però ci spostiamo un po in tutto il triveneto i nostri clienti sono clienti privati sono imprese imprese storiche anche fidate delle costruzioni e anche progettisti con i quali abbiamo dei rapporti storici l'azienda sempre 60 anni per cui ha dei rapporti ormai consolidati nel tempo gli ultimi tre anni con gli incentivi del 110 per cento noi siamo strettamente collegati con i serramenti al 110 per cento ha fatto sì che la richiesta per noi è stata più alta di quello che noi eravamo in grado di soddisfare dopo anni bui dal 2012 2013 2014 che sono stati anni particolarmente difficili per questo settore gli ultimi tre anni è sicuramente ripartito il mercato le prospettive per il prossimo anno sono buone ripeto una parte di incentivi statali ci sono ancora per cui per la sostituzione di finestre sicuramente si va avanti noi abbiamo poi una grande quantità di clienti anche che vengono da fuori provincia le prospettive sono buone gli ultimi anni abbiamo fatto una serie di di sostituzioni di macchinari abbiamo messo dei macchinari nuovi e quindi vedo delle buone prospettive per il futuro autotrasporti bianchette una realtà nel territorio di belluno da oltre 60 anni sinonimo di trasporto su gomma da qualche anno è diventata di hl service point ma adesso la parola a te è di bianchette raccontaci della tua azienda ho cominciato a lavorare per la cooperativa agricola di fiammoli poi trasportavo fiero palia e avena per l'esercito per tutta la brigata cadore poi ci siamo messi a fare i corrieri sono partito da solo ho fatto azienda familiare e poi siamo passati alle srl oggi abbiamo 18 mezzi 20 dipendenti lavoriamo io mia figlia e mio figlio e io faccio solo la presenza fanno tutti i miei figli insomma per poter fare questo lavoro adesso le ditte anche le ditte grosse si associano per poter far fronte ai colossi stranieri oramai possiamo dire perché con la globalizzazione abbiamo avuto un po di difficoltà noi altri piccoli io lavoravo per una ditta di firenze che era l'ascoli è stata assorbita dalla dhl e io sono entrato in dhl quasi automaticamente una ditta seria una ditta che ci fa rigare dritti io penso di aver lavorato con tutte le più grosse vite d'italia perché dalla ferrero la bertoli la cirio la mira lanza beh per quanto riguarda i trasporti c'è stata un'evoluzione grandissima prima di tutto abbiamo avuto la concorrenza dell'est e poi con gli espressi che sono nati come i funghi si può dire ma adesso noi ordiniamo un pezzo in cina dopo 24 ore lo abbiamo qua da quando ho cominciato io che non c'erano le strade le autostrade 60 anni che io sento parlare di trasporto combinato goma rotaia ma ancora non è stato fatto niente un ringraziamento alla falegnameria colazzuol e anche autotrasporti bianchette per quanto hanno fatto per noi e per essere nostri clienti e nostri soci come vi dicevo adesso la parola va alla responsabile del servizio universitario dell'università uni dolomiti di belluno la dottoressa francesca ferrazza sono francesca ferrazza referente uni dolomiti campus dell'università dell'alta formazione del centro consorzi l'attività di uni dolomiti è molto varia si occupa innanzitutto della gestione di un corso di laurea triennale l12 grazie alla convenzione con la scuola superiore per mediatori linguistici san domenico di roma gli indirizzi che abbiamo curato in questi anni sono essenzialmente tre l'indirizzo marketing e comunicazione l'indirizzo diplomatico e l'indirizzo criminologico oltre a questa attività gestiamo varie attività di corsi di alta formazione su tematiche varie legate al territorio e all'attualità e siamo help point di varie università telematiche tra cui uni pegaso uni mercatorium uni marconi san raffaele e link university ma l'esperienza universitaria di centro consorzi non è soltanto tramite la san domenico di roma con i percorsi della uni dolomiti in mediazione linguistica i percorsi di alta formazione ma ci occupiamo anche di altri due argomenti questo viene portato avanti dal dottor taroni roberto a cui daremo presto la parola chi vi illustrerà i due progetti formativi per la laurea breve buongiorno sono roberto taroni di centro consorzi uni dolomiti sono responsabile per i rapporti internazionali da quest'anno per uni dolomiti avremo due percorsi di laurea breve quindi tre anni di baccalaureato completamente nuovi uno di business e management e l'altro invece particolarissimo di criminologia ma soprattutto criminalistica ora sappiamo tutti che la parte criminalista è veramente particolare e difficile e per quello abbiamo dei docenti italiani di altissimo livello che non solo studiano e possono quindi relazionare ma sono persone del campo dell'attività quindi con un'expertise incredibile a questo si aggiunge al fatto che chi si iscrive a criminologia deve avere in questo caso criminologia ma criminalista anche delle attitudini perché ci sono dei corsi veramente molto duri per persone che non avessero questo istinto la possibilità di studiare a distanza la possibilità di avere i docenti a disposizione la possibilità di arrivare a quel benedetto foglio di carta di laurea che è quello che serve a tutti intanto vi aspettiamo iscrivetevi e contattateci grazie bentornati in studio adesso la parola la vorrei dare al nostro direttore michele talo che vi illustrerà tramite un servizio di tele belluno un'offerta formativa che abbiamo predisposto grazie anche il contributo di cari verona per quanto riguarda la formazione degli adulti sul settore del legno allora direttore grazie alla fondazione cari verone insomma c'è un progetto interessante dedicato agli under 35 qual è l'obiettivo di questi corsi che partiranno l'obiettivo è quello di dare manualità competenza ai giovani non solo quelli che lavorano nel settore del legno ma anche quelli che vogliono comunque collegarsi lavorare anche a livello obbistico ma anche magari ricrearsi una professionalità quindi tutti i corsi sono rivolti a under 35 riguardano un po il settore affraniameria ma anche della scultura e anche magari più artistici ecco come come ragionamento e poi c'è un'attività anche culturale ecco la il centro consorzi come mai porta avanti questo progetto con quale con quale filosofia anche di pensiero ma la filosofia è che legno fa parte della nostra cultura nostra tradizione no è una capacità ancestrale che ci è stata data ai nostri avi quella di lavorare nel settore del legno e quindi il nostro compito è quello di lavorare nella tradizione cercando di sviluppare quella che l'innovazione la proposta di nuove tecnologie l'utilizzo della lavorazione del legno che si lega però a una competenza sociale ecco al territorio bellunese ecco i posti sono andati sold out o c'è ancora disponibilità per iscriversi no c'è ancora disponibilità perché oltre a questi tre corsi in avvio ce ne sono altri quindi abbiamo una serie di percorsi ancora liberi quindi tutti quelli che vogliono approfondire la tematica possono intanto guardare il nostro sito oppure possono chiamare presso la nostra segreteria ma come sapete centro consorzi e case artigiani non sono soltanto formazione è venuto a trovarci il direttore di san in veneto quindi a voi adesso il servizio buongiorno a tutti sono gimmi tra buco e sono il direttore di san in veneto oggi siamo qui a casa artigiani belluno perché siamo impegnati nella formazione del personale dello sportello san in veneto san in veneto è uno strumento importante perché è lo strumento che serve a garantire l'assistenza sanitaria integrativa a tutti i lavoratori dell'artigianato veneto è uno strumento fortemente voluto dalle parti sociali conf artigianato imprese cna casa artigiani cgl cisl e will del veneto che hanno scelto di creare uno una struttura locale legata al territorio in modo da riuscire sempre a monitorare gli obiettivi gli strumenti che vengono posti in essere ogni giorno san in veneto è un fondo che è totalmente autogestito e questo gli permette di essere presente dove altri fondi non riescono a un nomenclatore molto ampio di più di 3.600 prestazioni 3.600 situazioni in cui il fondo prevede un rimborso che a cui può accedere il lavoratore san in veneto è attivo inoltre in molti altri servizi come il non autosufficienza il benessere psicologico ed è l'unico vero fondo che è riuscito a convenzionarsi con il sistema pubblico abbiamo due importanti convenzioni una con l'azienda ulse di vicenza e un'altra con l'azienda ospedaliera di padova che saranno apripista di un modello di convenzionamento regionale e con questo ultimo servizio finisce anche oggi la puntata di lavorare al centro è stato un onore per noi avervi come ospiti in questa puntata ringrazio i miei colleghi e anche le persone che sono intervenute oltre che le aziende clienti e socie che hanno voluto presentare la loro attività e non mi resta altro che salutarvi darvi appuntamento alla prossima puntata ricordandovi che se volete approfondire questi temi potete contattarci ai numeri sopra sotto impressione o tramite il sito internet o tramite l'indirizzo mail grazie mille ancora la prossima dal vostro stefano grazie mille grazie mille